Siamo a Castello Branco sempre, c'è la festa nazionale del motociclista, abbiamo trovato l'associazione dei motociclisti cristiani, che hanno la bibbia del motociclista interessante, e abbiamo qua il presidente dell'Associazione Portoghese che ci spiega un po' di più. Qual è la tua associazione? CMA è un associazione che abbiamo in 35 paesi, siamo circa 25.000 persone che andiamo a concentrazioni come questa, e abbiamo due paesi come queste persone, ma l'unica è comunale, significa che abbiamo la paesi per le bicchi e abbiamo la paesi per Christi, la vita di Christi. La Bibbia per noi è il nostro manuale, il nostro tool per le bicchi, per presentare Christi. Questa è Caterina, mia figlia, la prima donna di Portoghese. E siamo in questo tipo di concentrazione e parlavamo di Gesù, come ha cambiato le nostre vidi. E la Bibbia è che, nel principio, abbiamo storie di persone che stavano nel mondo secolare, e poi hanno un incontro con Gesù. e poi hanno cambiato le nostre vidi. E nel medio, questo è il Nuo Testamento, che è la storia di Gesù. E noi parliamo solo di come viveva nelle nostre vidi. Questo è il principale obiettivo del CMA. Ok, fantastico. Cambiare il mondo in un po' di più. Ok, qui se necessitiamo. Questo è il nostro punto principale. Quindi bisogna avere fede e andare sempre in conto. E vi consiglio questa Bibbia. È in portoghese, ma penso che si può trovare in tutte le lingue. E mettiamo poi anche il sito internet. Grazie.